Ciao, sono Gianluca Bocci e in questo momento avrei potuto cantare Wee woe 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 rock you Ma più che altro vorrei raccontarvi della pazzia, dell'ultima pazzia che ho fatto Per la musica di pazzia se ne fanno tante come personalizzare la mia crancassa come quel logo Ho anche la pazzia di spendere 1195€ per farsi degli in-hear monitor assolutamente su misura Infatti oggi vi parlo dei Haria Sounds portamento custom fit, letteralmente fatti su misura Una cosa estremamente complicata, gli sto dietro da un anno Infatti subito dopo la sigla vi spiego tutta la serie di passaggi e tutta la serie di sondini che sono necessari Andiamo Bene, mi raccomando, ditemi nei commenti se vi è piaciuto il montaggio dell'intro Montaggio complesso come davvero una morte La registrazione è semplice, 4 registrazioni indossando appunto i miei in-hear monitor E ascoltando un metronomo 80 bpm Si chiama SoundBrenner, se siete musicisti è gratuito, è il miglior metronomo su smartphone che ho trovato Ma continuiamo a parlare di cose da musicisti per vedere i 6 passaggi che ho dovuto affrontare Quindi è complesso arrivare a ottenere dei in-hear monitor personalizzati Fino in fondo E vi dico anche questo Io in realtà è da un anno che cerco di farmi fare questi auricolari su misura Ma mi ho rivolto a un'altra ditta Andando anche a rischiare l'integrità dei miei timpani Quindi ho rischiato questa ditta scomparsa Una bruttissima avventura Ma andiamo a vedere per ordine Allora, lista della spesa La prima cosa che dobbiamo affrontare, uno, è la visita dall'autorino Questo perché quando andiamo a fare questi calchi Quindi a fare la forma del nostro condotto uditivo Il nostro condotto uditivo deve essere perfettamente pulito, privo di cerume E non dite, ah io mi lavo sempre orecchie Sì, fate bene, è anche una questione di igiene personale Bruttissimo, ma riuscire con una bella ragazza e il tocco di cerume che ti cade avanti Ma in realtà un po' di cerume può rimanere molto in profondità Non utilizzate i cotton fiocca ragazzi pericolosissimi Potete utilizzare prodotti farmaceutici Oppure andare, si fa l'impegnativa Si va quindi in ospedale, dall'autorino E prende, vi controlla con il suo strumento se è ben pulito Se non è pulito, prende un seringone pieno di acqua calda L'ho fatto, non è fastidioso E orecchie splendide che brillano Spesa molto modesta In questo caso sono 46 euro Niente di che Piccolo aneddoto Ho chiesto al mio autorino, lo conosco bene Ci senti Paolo, ma in realtà io arrivo ai 20.000 Lui è sgranato gli occhi e ha detto No Gianluca, se tu arrivi a 44 anni, ai 16-17.000 Va molto bene Ma andiamo avanti La seconda cosa da fare è andare a fare i calchi E qui appunto, quando un anno fa ero andato da un'altra ditta Non era l'Area Sounds A fare questi auricolari E ho detto, ah i calchi ti rifacciamo noi Ho scoperto poi che in realtà è sbagliatissimo I calchi li deve fare solo e unicamente un tecnico audioprotesista Perché una persona che non è specializzata Potrebbe prendere e rovinare i timpani Quindi potrebbe essere un incubo In realtà trovare un tecnico audioprotesista non è stato così semplice Io sotto casa, a 10 metri, ho l'amplifon Sono andato da loro e mi hanno detto No, noi facciamo i calchi soltanto se poi tutto il processo Quindi fino all'auricolare finito Lo fai da noi Fortunatamente nelle mie zone c'è anche la Maiko con l'acustica Marche E sono andato da loro a farmi fare questi calchi Come funziona? Innanzitutto vengono inseriti dei piccoli tamponi tipo di spugna Con un filo che serve proprio per proteggere il delicatissimo timpano Dopodiché viene iniettata una pasta siliconica bicomponente Che va appunto sparata con un silingone a riempire sia la parte interna sia la parte esterna Molto importante perché l'auricolare si aggancia anche alla parte esterna dell'orecchio Mentre fa presa, ma ci vuoi una trentina di secondi Bisogna muovere continuamente la mandibola Come se stessimo masticando una gomma Questo perché in realtà l'auricolare deve essere comodo anche mentre ci muoviamo Magari come nel mio caso io sono un batterista ma faccio anche i cori Quindi devo poter muovere la bocca e non avere nessun fastidio sull'orecchio E il nostro condotto auditivo si deforma appunto quando muoviamo la bocca Quindi deve essere un calco dinamico Così lo definiscono Lì alla Maiko Acustica Marche mi hanno fatto poi due calchi di due materiali differenti Uno più rigido, uno più morbido Proprio per agevolare poi il lavoro dell'Area Sounds Costo dei calchi qui saliamo leggermente Sono 120 euro E dopodiché dobbiamo acquistare gli auricolari In questo caso ho scelto il portamento dell'Area Sounds Che è il modello intermedio Il modello base, vi ricordo, la recensione è già qui sopra Quanto costa il portamento con i suoi sei driver? Ha due driver per le basse, due per le medie e due per le alte Quindi è un 3V con un crossover estremamente complesso Ve lo faccio intravedere tra poco al suo interno E costano 649 euro Però per 649 euro andremo a utilizzare Guardate appunto il video qui sopra Uno dei tre formati preimpostati Se vogliamo realizzato sui calchi Dobbiamo fare il custom fit Vi sparo subito il prezzo Sono altri 200 euro Qui ragazzi si tratta effettivamente di un lavoro molto particolare Perché non si va a lavorare in catena di montaggio Ma ogni auricolare è giustamente un pezzo unico Non solo Il custom fit ha una caratteristica unica Che la parte finale Quindi quella che va più in profondità È morbida Vorrei fare tra poco leggermente commosa Quindi un comfort assoluto Non abbiamo finito C'è la personalizzazione Perché se noi vogliamo materiali Personalizzazione Quante Z Se noi vogliamo materiali e colori scelti da noi Un logo scelto da noi Dobbiamo aggiungere altri 150 euro Effettivamente io ho chiesto che li volevo con il corpo trasparente Perché volevo vedere questi 6 driver all'interno Sono un GIC Non ci posso fare nulla E in più volevo che siccome spesso tu ti infili gli auricolari sul palco Quando sei nel buio Specialmente nei live E che succede? Trovare il destro e il sinistro può essere difficile L'ho detto mi fai il sinistro con la chiusura bianca E il destro con la chiusura rossa Pensate alla classica coppia di cavi RCA Destro e rosso Sinistro e bianco Quindi così colori vivi spiccano anche il buio Li riconosci subito E in più il disegnino Ragazzi anche il disegnino è un costo Anche se molto piccolo Allora Innanzitutto tutti i link dei prodotti a cui parlo Quindi ovviamente Aria Sounds Maico Acustica Marche E anche Gabriele Giovannetti Spero vi ha detto bene il nome I link qui sotto in descrizione Gabriele è il fautore L'artista della grafica del mio canale Di tutti i miei faccioni che vedete sulle pagelline Anzi ve le vedrete tra poco E lui ha creato anche questo Jolly Roger davvero batterista rock Vi mostro infatti la foto da cui è partito Vi do sempre una foto come ispirazione E questo vedete il risultato In fondo l'avete visto anche in apertura Sulla gran cassa della mia batteria E sono riportati anche sui auricolari Qui il costo è davvero quasi irrisorio Ovvero 30 euro Totale di questi sei passaggi L'avete visto già nel titolo 1195 euro Bene ragazzi Concluso tutto il viaggio Andiamo un po' a vedere l'oro Giustamente più a vicino Eccoci qui in questa ripresa super macro Perdonatemi se ogni tanto vado letteralmente a farmi ombra Inizio subito a farvi notare Vedete questa è la parte che va in profondità All'interno del nostro condotto uditivo E infatti guardate un po' Io la vado a schiacciare È gommosa Ovviamente appena lascio Torna praticamente nella sua forma originale Questo è il sereto del suo comfort estremo Quindi questo è morbido Provo a sbatterci con l'unghia Sentite un suono Il resto invece è rigida Sentite Interno in cui si vedono tutti gli elementi Tutti i trasduttori Sono all'armatura di tipo bilanciata E vi faccio notare una cosa Allora i miei due orecchi Sono estremamente differenti Potremmo aver visto prima sui calchi E ci ho fatto un altro video Che vi rimando qua sopra Insomma beh Solita ischeda In cui parlavo di questo problema E se voi vedete l'interno Vedete che sono disposti in maniera differente Vedete qui due driver sono messi di fianco Qui invece sono messi in verticale Costruire all'interno è pura oreficeria Perché gli spazi qui c'è tanto spazio Quindi forse ha faticato di meno Qui lo spazio è pochissimo Ma i componenti sono gli stessi Quindi sei driver E tutta la componentistica elettronica Se vedete qui Cerco di metterla a fuoco È mica facile Proviamo così Dai che ce la fai Eccola C'è una piccola induttanza Qui vedete Tutta una serie di cavetti Di saldature Di piccolissime resistenze Di tipo SMD Quindi è incredibile Tutto quello che sono riusciti A fare entrare Qua dentro E vi dicevo appunto Parte trasparente Per far vedere La struttura interna Su cui si notano bene Quei due tubicini Che i due tubicini Non sono una cosa casuale Mi hanno spiegato Ma insomma Molto tecnica Ma in pratica Il numero di condotti Il diametro di condotti E a quali driver Sono collegati Non è casuale Perché il condotto In base alla sua lunghezza E al suo diametro È un'accordatura Quindi andrebbe A modificare il suono E quindi va scelta Con senso È tutto Molto molto complesso Quindi bellissimo Vederlo Ma all'esterno Vi dicevo Queste callottine Colorate Distinguono meglio Il rosso dal nero Con il mio teschetto Se vogliamo Qualche imperfezione Di ritaglio E di incollaggio C'è Ma le bacchette Non ci ho pensato Colpa mia Sono state effettivamente Difficilissime da andare Perché loro stampano Ritagliano Poi le inseriscono In una resina Che va a costruire Appunto Tutto che Quello che è il corpo principale Connessione Staccabile Quindi se si rovina il cavo Nessun problema Tramite due pin Sempre Di tipo Dorato Il cavo È quello classico Per appunto IM Quindi con la parte vicino Le orecchie Prendo l'altro Il bianco Così faccio vedere anche lui Visto ben da vicino Che tiene la memoria Il cavo trasparente Se vogliamo È anche una sciccheria Rispetto al corpo Che è trasparente Dall'altra parte Connettore Angolato Di tipo drato Che poi tra l'altro Ho cercato In tutti i modi Di trovarli più lunghi Ho scoperto Che non è colpa Dell'Area Sounds Ma semplicemente Non si trovano Più lunghi Di 1,2 metri E l'Area Sounds Non le produce Ultima cosa da dirvi Ovviamente Uno deve fare Molta attenzione A tenere puliti I due forellini Che sono gli sbocchi Serve un attrezzo Specifico All'Area Sounds L'hanno terminato E me lo devono Ancora inviare Ma in realtà Dovelo far uscire La recensione Comunque Si può pulire Con Un Stuzzicaventi Facendo molta attenzione O con un fil di ferro Molto leggero Da oreficeria Messo praticamente Formando un piccolo cappio E quindi si va a prendere E scavicchiare Ma mi arriverà Lo strumento adatto Per fare questa cosa qui E adesso vediamo Come si indossa Allora Indossarli È di una facilità Disarmante Avete presente Tutte quelle crobozie Che ho fatto vedere In tanti altri video Il tipo di prendere E tirare l'orecchio In modo da allargare Il condotto auricolare Per fare entrare meglio E qui Non serve Lo scegliamo Questo è il bianco A sinistra Questo è il rosso A destra Appunto L'ho fatto volutamente Per avere facilità Il filo dietro Inserito Cioè Tac Preciso Sta lì Bene Nessun fastidio Stesso discorso Per il sinistro Passiamo il filo dietro Lo inseriamo Tac Fatto Finito Quindi è una velocità Se noi stiamo sul palco E sentiamo qualcosa Ci da fastidio Un attimo lo leviamo E con la stessa velocità Anche con una mano sola Mentre magari con la sinistra Scusate che sta a destra Con la destra Sto ancora tenendo il tempo Sul ride Sul charleston Lo prendi E lo metti Come vedete Sono estremamente stabili Perché si aggancia Anche sulla parte esterna Dell'orecchio Quindi se fossi un chitarrista Magari se sono un batterista Sto lì Bello presso Non si muovono Due cose da dire Rispetto al classico auricolare Con il gommino O in silicone Oppure in memory Diciamo L'isolamento De rumori esterni È migliore Scusate È minore Quindi in realtà Riesco a sentire anche bene La mia voce Non ho l'effetto stetoscopio Cioè se mi metto a toccare I fili Non me li sento Amplificati All'interno Quindi per me È una cosa migliore Proprio La musica La sentiamo qui Se abbiamo altre cose Tipo altri spi sul palco Potremmo avere un po' di fastidio Ma La qualità Al audio È estremamente elevata Per quale ragione Mentre con i classici Appunto auricolari Con gommini Noi in base A quanto andiamo in profondità In base a come Incliniamo l'auricolare L'emissione Del suono Cambia E quindi per me Avere un'emissione Migliore O peggiore E appunto Se noi abbiamo Due orecchie molto differenti Come al mio caso Questa piccolissima Questa è invece enorme Dobbiamo scegliere Gommini differenti E potremmo avere Una chiusura Differente Dell'orecchio E quindi una resa Sbilanciata A destra Sinistra Qui No Perché appunto I due condotti interni Quei due forellini Sono puntati Sempre nella stessa posizione Sempre alla stessa profondità Sempre con lo stesso orientamento Quindi il suono È perfettamente Bilanciato A destra Sinistra E lo mettiamo Il primo giorno dell'anno Lo mettiamo L'ultimo giorno dell'anno Vanno sempre A puntare Lì E sensazione Un po' strana Perché dice Cavolo Ho l'auricolare Non mi sento Attappato Mi cade No Non c'è nessun fastidio Non c'è più questa sensazione Di sentirci Attappati Nelle orecchie Ma Non cadono mai Adesso prendo Qui e tiro Stanno lì Fermi E il suono Pacelline Iniziamo giustamente Dalla pacellina Relativa al suono Allora Prima cosa Potenza I210 Questi Aria Sounds Questa poi La custodia Fornita in dotazione Hanno bisogno Di un soffio Qualsiasi Centralina di batteria Elettronica Qualsiasi cellulare Con il suo metronomo Ma anche Il mio fido Lettore Della Ruizo Di cui vi mando La prova Qui sopra Hanno potenza Sovrabbondante Per pilotarli Lui in pratica Il volume può andare Da 1 a 100 A 15 Il volume è forte Davvero forte A 17 Già arriva Il fastidio Quindi Davvero Potenza incredibile Distorsione Arriva prima Il fastidio Appunto Che la distorsione 10 I bassi Invece Gli do 8 Utilizzano i drive Per fatti vedere Le armature bilanciate Nonostante siano raddoppiate Il basso Non è muscoloso Come piace a me Ma comunque Siamo a 8 Bello definito Bello dettagliato Se ci ascolto Il basso Nel senso Il bassista Quando suona appunto La sezione ritmica Batteria e basso Devono essere sempre Ben abbinati Lo sento bene Distinto Mai impastato E mai da fastidio Alla gamma media Ragazzi Davvero 10 Fantastico Poi altro da aggiungere Gli altri Gli do Un 9 Perché sono Molto belli Brillanti Non brillantissimi Ho sentito Qualche cosa Di meglio Ma davvero Siamo vicini All'eccellenza 9 Il dettaglio Sesso discorso È un 9 In particolare Questi sono Dei Hear Monitor Monitor Che vengono utilizzati Per ascoltare Controllare Quello che stiamo suonando Quello che stanno facendo I nostri compagni I nostri musicisti Il nostro gruppo Ma in realtà Le utilizzate Anche per controllare Delle registrazioni Sono molto Molto analitici Gamma Bassa Media Alta Pur essendo Un 3 Vie In così poco spazio Non vanno mai A impastarsi Sesso discorso L'eleganza Ha una resa Davvero Molto Molto Bella Dettagliata Piacevole Insomma Anche qui Siamo A un 9 Ma in realtà Cos'è complessivamente Che mi piace Allora Innanzitutto Il fatto che È un piccolo Gioiello Di oreficeria Come sono riuscite A inserire Così tanti componenti Elettronici In così spazio Creando Un insieme Ben funzionante E ben suonante Davvero Fantastico Seconda cosa Ma poi Dovrei metterla Come prima Perché Perché ti fai Dei in here monitor Degli auricolari Su calchi Personalizzati Per il comfort E qui il comfort Non mi ripeto Lo avete già visto prima È assoluto Come anche Incredibile La stabilità Non c'è fastidio Tu dici Oddio Mi cadono No no Non possono cadere Seguono la forma Del nostro orecchio E quindi Stanno lì Belli Tranquilli Non fastidiosi E stabili Il suono Ve l'ho detto Pochi secondi fa Sono davvero Dei monitor Analitico Ben dettagliato Pacevole Eccellenti In gamma media L'ultima cosa Insomma E qui anche Lo sfizio Da nerd Geek Sono degli oggetti Unici Le indossi La gente vede Ma che auricolari hai Così hanno detto I componenti Della mia band Eh sì Sono auricolari Unici Perfetti Beh ci sono due cose Da dire Ma più che altro Sono due cose Che dovete tenere presenti Prima Vabbè E anche il titolo Del video Costano un botto Non è sicuramente Un prodotto economico È un prodotto Che secondo me Se non siete musicisti Insomma È un po' difficile Da giustificare Hanno senso effettivamente Se uno dice Ok io voglio utilizzare Questi auricolari Sul palco Per tre ore E devo starci comodo Stabile Eccetera Eccetera Per tutti gli altri Potreste prendere I stessi auricolari Senza i gusci personalizzati E già scendete A 649 euro L'avete visto prima Quindi già si dimezza L'impegno economico Seconda cosa L'ho messo lì È un impegno generale Non solo economico Ma appunto Dovete andare Dallo Torino Dovete andare A fare calchi Dovete prendere E spedire i calchi Alle R-Sounds Quindi Non è come andare Su Amazon Scegliere un prodotto E finito lì No È una scelta Di cui dovete essere Ben coscienti Che intraprendete Un percorso Per portarvi Fino All'eccellenza Degli In-ear monitor Bene ragazzi Mi scuso Per la lunghezza Di questo video Ma Sto dietro A questi auricolari Da un anno E giustamente Voluto raccontarvi In dettaglio Cosa è successo Fino ad arrivare A questo risultato Ciao a tutti ragazzi E al prossimo video E al prossimo video